È stata recuperata parte della refurtiva del colpo messo a segno nella notte tra l'1 e il 2 novembre scorso alla Intercossi Europe S.P.A. di Dovera, grazie all'attività dei carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Crema con la collaborazione del personale di sicurezza della ditta, al termine di un'indagine partita subito dopo l'accaduto. Il bottino del furto era composto da varie scatole contenenti cosmetici per un valore di circa 100.000 euro. L'operazione dei militari è consistita in una perquisizione locale eseguita nei confronti di un cittadino ucraino 36enne residente a Spino Dadda, sospettato di detenere illegalmente anche armi. Nell'abitazione dell'uomo è stata infatti trovata una pistola Tamburo Smith & Wesson 357 Magnum con 50 cartucce legalmente detenuta. Oltre ai cosmetici rubati all'Intercossi, i militari hanno rinvenuto 19.000 euro in contanti e altro materiale che poi è risultato provento di ulteriori furti avvenuti nei mesi scorsi in varie zone del nord Italia. Sono state recuperate varie scatole di mascherine e guanti in lattice, alcune scatole di scarpe di un quotato stilista, fulare e occhiali di note marche. Tutto il materiale ritrovato è stato posto sotto sequestro e i cosmetici sono stati restituiti alla ditta Intercoss Europe S.P.A. L'Ucraino, al termine di tutti gli accertamenti, è stato denunciato per detenzione illegale di armi e munizioni e ricettazione e furto aggravato.